Buone notizie per tutti gli smanettoni in ascolto! Da qualche giorno è finalmente disponibile Ubuntu 22.04 LTS La nuova versione di Ubuntu del 2022 ha supporto esteso che porta in dote un'ottima quantità di funzionalità e novità Ciao sono Zane di Turbola.it e nei prossimi minuti vedremo proprio quali sono le 5 novità principali di Ubuntu 22.04 Se quindi sei già un utente Ubuntu e quindi vorresti aggiornare oppure vorresti provare Linux per la prima volta Seguimi Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno La prima caratteristica che rende questo Ubuntu 22.04 estremamente interessante è appunto il fatto che è una LTS ovvero Long Term Support Significa sostanzialmente che Ubuntu garantisce tutti gli aggiornamenti compresi quelli di sicurezza fino al 2027 Quindi se la scegli e la installi oggi hai la garanzia di ricevere tutti gli aggiornamenti anche quelli di sicurezza fino al 2027 senza bisogno di aggiornare periodicamente e di passare alle nuove release Ma veniamo alle novità più interessanti per noi utenti In particolare la novità più vistosa è l'introduzione di GNOME versione 42 che si tratta sicuramente di una di partita importante rispetto a quello che è arrivato prima A parte in generale l'interfaccia grafica, l'aspetto appunto dell'interfaccia grafica che è stato perfezionato un po' in tutti gli aspetti La differenza più importante in particolare per gli utenti che provengono da Ubuntu 20.04 è la disposizione della dashboard, eccola qua e della gestione dei desktop multipli Innanzitutto la dashboard ora non scorre più in verticale ma scorre in orizzontale quindi le applicazioni sono mostrate appunto in queste due pagine che come vediamo qua sopra mostrano anche la disponibilità dei desktop multipli quindi quello che possiamo fare da questa dashboard a parte riordinare appunto le applicazioni quindi possiamo spostarle in una nuova posizione possiamo riordinarle come meglio preferiamo direttamente da qui della dashboard possiamo anche trascinarle direttamente su queste miniature delle dashboard per aprire queste nuove applicazioni direttamente sui desktop che abbiamo selezionato Eccoli qua i nostri desktop che come vediamo cliccando ad esempio sul pulsante start quindi il pulsante win della tastiera scorrono ora in orizzontale e non più in verticale come succedeva Prima... Ciao scusa per l'interruzione se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere per me è sempre davvero estremamente importante quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco mi raccomando non dimenticare la campanella Torniamo al video Ad ogni modo comunque secondo me la modalità di visualizzazione più interessante è sicuramente quella della dashboard che ci permette anche di trascinare le finestre come sto facendo in questo modo da un desktop all'altro cosa che personalmente trovo estremamente comoda Questa impostazione riprende quindi da vicino quella di Windows e Mac OS ma c'è un'altra chicca ovvero facendo swipe con tre dita sul touchpad del nostro portatile potremo passare da un desktop all'altro esattamente come siamo abituati a fare in ambiente Windows o Mac Ora altre due chicche importanti di questa versione di Ubuntu nell'angolo qui in alto a destra abbiamo innanzitutto la possibilità di selezionare direttamente il comando per riavviare che in precedenza era nascosto all'interno del menu spegni ancora in caso fosse collegato un microfono comparirebbe qui un indicatore che mostra appunto che il microfono è attivo ma cosa ancora più importante in caso il microfono sia stato mutato comparirebbe una barra sull'icona che appunto segnala che il microfono è stato disattivato così magari in futuro le persone smetteranno di dirmi non ti sento hai il microfono disattivato l'altra grande novità di Ubuntu 22.04 è l'attenzione alla personalizzazione in particolare se clicchiamo qui sulle applicazioni dalla nostra dashboard selezioniamo le impostazioni abbiamo questo nuovo bel pannello aspetto dalla quale possiamo veramente personalizzare tantissime cose innanzitutto come gli utenti di più vecchia data ricorderanno le versioni recenti di Ubuntu hanno rimosso il tema chiamato lo stile chiamato standard ed è presente solo quello chiaro oppure scuro come in questo caso e proprio il tema scuro è stato veramente molto migliorato in questa generazione di Ubuntu perché mentre nella generazione precedente le applicazioni facevano un po' le bizze non sempre rispecchiavano esattamente la scelta dell'utente quindi magari si mostravano generalmente bianche nonostante fosse stato selezionato il tema scuro su questa nuova generazione le cose sono migliorate moltissimo e io ho provato un po' di prove con la maggior parte delle applicazioni fornite a corredo di Ubuntu e devo dire che generalmente viene piuttosto rispettata piuttosto bene appunto la scelta dell'utente e il tema scuro in particolare viene rispettato veramente un po' da tutte le applicazioni che ho provate una grande eccezione chiaramente l'ho trovata subito ed è il LibreOffice che si mostra appunto in questo modo nonostante ci fosse il tema scuro quindi la maggior parte dei comandi qua sopra e dei frame sono scuri come il tema che abbiamo selezionato però la parte principale nella quale scrivere rimane su testo bianco non sono sicuro che sia questo il comportamento che chi sceglie il tema scuro si aspetta un'altra cosina veramente molto interessante per quanto mi riguarda sempre qua nella schermata di gestione dei nostri colori eccola qua è la possibilità di selezionare un colore di accento ovvero selezionare il colore secondario tramite il quale si possono ottenere degli effetti veramente molto interessanti quindi rimetto un attimo lo stile chiaro se seleziono ad esempio questo bel color verde come vediamo viene modificato il colore secondario e questo si rispecchia innanzitutto qui su alcune icone come vediamo mostrano il colore secondario chiaramente l'evidenziazione, la selezione e in generale un po' in tutto il sistema operativo appunto dove ci sono delle tonalità colorate rispecchiano questa selezione ma la quantità di opzioni di regolazioni personalizzabili in Ubuntu 20.04 non finisce qui c'è ad esempio la possibilità di regolare la dimensione delle icone facendole piccolissime come in questo caso oppure più larghe del normale a seconda della nostra personale preferenza per il resto possiamo scegliere dove vengono posizionate le nuove icone se mostrare o meno la cartella home dell'utente che chiaramente per quanto mi riguarda disattiverò immediatamente e un'altra serie di personalizzazioni in particolare è stata posta tantissima attenzione alla personalizzazione della doc quindi la barra qui di fianco con tutte le applicazioni in particolare possiamo scegliere se nasconderla automaticamente quando viene appunto avvicinata una finestra alla doc come vediamo sparisce oppure possiamo scegliere se utilizzare o meno il panel mode questa secondo me è veramente una chicca in particolare agendo su questo indicatore possiamo scegliere se preferiamo che la doc si estenda per tutta la lunghezza dello schermo oppure semplicemente che venga ridotta in questo modo è un'ottima cosa che sia possibile modificare questa impostazione tramite una singola opzione e senza bisogno di installare il software aggiuntivo ma torniamo alle altre opzioni che possiamo scegliere sulla nostra doc chiaramente possiamo fare le icone più grandi o più piccole di nuovo molto utile per chi abbia delle preferenze forti in questo tema e di nuovo possiamo scegliere se mostrare il doc solo sullo schermo primario oppure su tutti gli schermi e di nuovo cosa che io apprezzo moltissimo tramite un semplice comando possiamo scegliere se spostare la doc a sinistra in basso oppure a destra per quanto mi riguarda sicuramente la sceglierò di mantenerla in basso proprio perché questa è la mia impostazione preferita però di nuovo la cosa importante è che l'utente potrà scegliere secondo le proprie personalissime preferenze dove posizionare la doc cosa che ad esempio non è possibile fare con Windows 11 e in questo momento è uno degli aspetti che fa più inforiare moltissimi utenti Windows un'altra cosina interassentissima che segnalo per quanto riguarda la nuova doc è questo nuovo indicatore, questo nuovo separatore che si presenta a questo punto che cosa significa? sta a identificare le applicazioni come quelle che vediamo prima del separatore che sono state bloccate e rimangono sempre presenti sulla barra delle applicazioni mentre tutte le altre applicazioni che non sono state bloccate ma sono attualmente in esecuzione vengono visualizzate dopo il separatore è un'altra cosina che è stata diciamo così presa di ispirazione da macOS e che trovo estremamente utile per aiutarci a capire quali applicazioni sono bloccate e quali sono invece solo temporaneamente presenti nel doc sempre rimanendo in tema di personalizzazioni per meglio adattare l'ambiente di lavoro al nostro personalissimo modo di lavorare segnalo la possibilità di accedere appunto sempre alle impostazioni e a questa nuova sezione dedicata al multitasking che è appunto il multitasking dell'utente non del processore quindi la possibilità di lavorare con più applicazioni contemporaneamente questo pannelletto è nativo di GNOME versione 42 e che il team di sviluppo di Ubuntu ha preso e riportato tal quale all'interno del nostro desktop quindi abbiamo la possibilità di selezionare se aprire appunto le attività con l'angolo caldo qui in alto a sinistra se la possibilità di affiancare o meno le finestre quando le trasciniamo vicino al bordo di nuovo è una preferenza se utilizzare gli workspace dinamici quindi desktop multipliche che vengono creati mano a mano che spostiamo e muoviamo le applicazioni oppure se preferiamo che siano in un numero fisso e predefinito ad esempio vogliamo sempre tre desktop indipendentemente da quello che succede per il resto un'altra caratteristica della quale io personalmente sentivo moltissimo la mancanza è la possibilità di utilizzare i workspace e di scorrerli su tutti i monitor e non solo sul monitor principale che appunto è quello che io desideravo fare da tempo ora finalmente è possibile farlo per il resto possiamo scegliere se isolare le applicazioni nel menu alt e tab che vediamo qui e isolarle appunto e limitare questa selezione alle applicazioni che sono in esecuzione sul desktop corrente oppure a tutti i desktop di nuovo è una preferenza e di nuovo possiamo scegliere se limitare la visualizzazione delle applicazioni dal monitor corrente oppure poter scegliere da questo menu le applicazioni che sono in esecuzione su tutti i monitor la quarta novità sono chiaramente l'aggiornamento delle applicazioni fornite a corredo del pacchetto partiamo da una cosina della quale non ho visto parlare molto in giro ma secondo me è estremamente importante in particolare selezionando condivisione da qua e a questo punto possiamo scegliere di attivare il desktop remoto da questo pannelletto questo però è il desktop remoto inteso come protocollo RDP infatti storicamente Ubuntu ha sempre permesso di collegarsi in desktop remoto utilizzando il protocollo VNC che andava benissimo per l'amor di dio ma era interessato da parecchie limitazioni una fra tutte è il fatto che non fosse crittografato quindi tutti i dati scambiati fra la postazione locale e quella remota che magari attraversavano internet o la rete wifi non protetta avvenivano senza crittografia a meno chiaramente di non mettersi a smanettare con determinate impostazioni ma era comunque una cosa un po' complicata invece a partire da Ubuntu 2204 è presente il protocollo RDP che sta per remoto desktop protocol ed è lo stesso utilizzato dal desktop remoto in ambiente Windows che per molti aspetti non ultimo questo della crittografia è sicuramente molto meglio del vecchio VNC attivarlo è veramente semplicissimo basta appunto accedere a questo pannelletto scegliere appunto remote control da qua in modo da poter interagire con il desktop e a questo punto è praticamente tutto fatto l'unica cosa che ci serve è segnare il nostro nome utente scegliere una password che è diversa da quella dell'account Ubuntu per qualche strana ragione e a questo punto potremo collegarci come siamo abituati a fare quando ci colleghiamo in desktop remoto ad un qualsiasi PC Windows anche perché il client fornito in dotazione a Windows proprio per connettersi agli altri PC va benissimo io l'ho già utilizzato anche per connettersi al PC Ubuntu e funziona veramente tutto davvero molto molto bene per il resto c'è il consueto aggiornamento della maggior parte dei pacchetti forniti in dotazione al sistema operativo quindi LibreOffice, Standardboard, Firefox sono tutte alle versioni aggiornate e anche a molte utility fornite a corredo del pacchetto GNOME ora qui il discorso è veramente molto spinoso perché GNOME 42 ha introdotto l'utilizzo del toolkit grafico GTK 4 mentre invece il team di sviluppo di Ubuntu ha preferito mantenersi legato al GTK 3 un'altra cosa da sottolineare è che le due applicazioni nuove di GNOME 42 non sono presenti in particolare GNOME 42 ha introdotto un'applicazione che si chiama Test Editor che sostituisce il vecchio G-Edit e un'altra applicazione che si chiama Console che sostituisce il classico Terminale ebbene appunto per i motivi che ho appena detto nessuna di queste due applicazioni sono presenti su questo Ubuntu 22.04 che continua a veicolare le versioni più recenti giudicate stabili delle applicazioni precedenti quindi G-Edit e Terminale vabbè facciamocene una ragione segnalo invece rapidissimamente il nuovo tool per catturare gli screenshot quindi cerchiamolo al volo da qua screenshot eccolo qua e una volta avviato si presenta in questo modo ora per molti aspetti la visualizzazione è sicuramente più moderna e più interessante risvecchio al vecchio programma fornito in dotazione però allo stesso tempo non posso fare a meno di notare che è sparita qualsiasi tipo di opzione quindi sì magari possiamo scegliere se catturare uno screenshot classico oppure registrare un video quindi registrare uno screencast però per il resto sono sparite tutte le altre opzioni quindi sì ok possiamo selezionare se catturare lo schermo selezionare la finestra però ad esempio è sparita la possibilità di includere o meno l'ombra delle finestre nello screenshot catturato oppure semplicemente anche solo di impostare il ritardo dopo il quale viene catturato lo schermo che è una caratteristica che almeno personalmente utilizzo tantissimo sempre rimanendo in termini di screenshot segnalo però rapidissimamente quest'altra caratteristica che ho scoperto ovvero che qua sopra la maggior parte delle finestre facendo clic con il pulsante destro sulla barra del titolo mostra questa voce di menu chiamata take screenshot che una volta cliccata permette appunto di catturare eccola qua lo screenshot della finestra corrente l'ultima importantissima novità sono gli aggiornamenti sotto al cofano mentre te ne parlo però installo il comando per visualizzare la versione del kernel e tutto il resto bene come dicevamo prima questa versione di ubuntu eredita le novità introdotte dalle generazioni precedenti in particolare il nuovo server grafico Wayland e l'implicitamentazione del sottosistema multimediale pipe wire che sono sicuramente degli avanzamenti molto importanti rispetto a quello che c'era prima allo stesso tempo la versione del kernel ecco qua che ha finito di installarsi è la versione del kernel 5.15 di linux che introduce alcune novità molto interessanti e veramente molto importanti una su tutti è la disponibilità di un nuovo driver chiamato ntfs3 che consente di accedere ai dischi formatati con il file system ntfs classico del mondo windows in modo molto più affidabile, veloce e stabile per il resto questa versione 5.15 introduce il supporto a molte cpu recenti ma il problema, il punto contestabile è che si tratta di una versione del kernel abbastanza vecchia ora il team di ubuntu ha scelto questa versione perché la 5.15 è anch'essa una lts e quindi anche questa versione del kernel linux riceverà gli aggiornamenti importantissimi di sicurezza per molti anni a venire l'aspetto negativo è però che questa versione 5.15 è abbastanza vecchiotta in particolare la 5.16 è in circolazione ormai da inizio 2022 mentre la 5.17 è stata rilasciata solo poche settimane fa e la 5.18 è già in cottura presso gli sviluppatori del kernel linux a questo punto probabilmente mi direte chi se ne frega se il kernel è un po' vecchiotto e probabilmente avete ragione l'unico aspetto in cui questa cosa qua deve essere trattata con un minimo di attenzione è per i pc che montino le recentissime cpu intel core di dodicesima generazione infatti il kernel in versione 5.16 e 5.17 ha introdotto alcune migliorie per quanto riguarda il supporto a questo tipo di processori che permettono di sfruttare al massimo tutte le prestazioni ora sicuramente chi ha un pc intel core di dodicesima generazione quindi nome in codice Alder Lake che utilizzi e scelga di utilizzare Ubuntu 22.04 potrà farlo tranquillamente perché in linea di massima tutto funziona bene ed è stabile non ci sono grossi problemi però lascia sul tavolo un po' di performance non utilizzate chi avrebbe utilizzando invece un kernel più recente chiaramente è sicuramente possibile impiantare un kernel più aggiornato dentro Ubuntu 22.04 però secondo me si perde un po' come dire lo spirito il sapore LTS di Ubuntu perché si entra in una situazione in cui c'è un kernel diverso impiantato su una distribuzione che non se lo aspetta sì è fattibile probabilmente funziona però non è proprio la combinazione che personalmente dal punto di vista della stabilità e della facilità di risoluzione dei problemi mi sento di consigliare un'ultimissima cosa prima di chiudere attenzione al fatto che questa versione di Ubuntu 22.04 utilizza Grab 2.06 quindi il bootloader è stato aggiornato alla versione 2.06 se hai installato solo Ubuntu sul tuo PC non c'è problema perché non ci sono novità particolarmente significative ma se invece sei in una situazione di dual boot in cui Ubuntu è installato di fianco a Windows avrai sicuramente qualche problema perché questa versione di Grab per motivi di sicurezza dicono ha smesso di scansionare tutte le altre partizioni per rilevare le partizioni che non siano quella dove si trova il sistema operativo principale il risultato netto è che non è più possibile installare Windows dopo aver aggiornato a questa versione di Ubuntu in realtà non è un problema perché basta cambiare un singolo parametro ho lasciato tutte le indicazioni in questo articolo su Turbulab.it se sei in una situazione di dual boot mi raccomando ti basta svolgere questa semplice procedura non panicare ci vogliono solo pochi istanti bene dal giorno di Turbulab.it è tutto come al solito se hai già aggiornato ad Ubuntu 22.04 fammi sapere nei commenti qua sotto cosa te ne pare se ti piace, se non ti piace, se hai scelto qualche altra distribuzione, qualsiasi cosa fammelo sapere qua sotto nei commenti se invece il video ti è piaciuto come al solito ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace per farmelo sapere per me è estremamente importante quindi grazie, grazie davvero in anticipo ci troverai un secondo per farlo se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia quindi Ubuntu come oggi ma anche Linux in generale, Windows, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco mi raccomando non dimenticare di cliccare sulla campanella al prossimo video, ciao 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 ciao